E' iniziata a Castrovillari la grande festa dei vent'anni di Primavera dei Teatri, il festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea, ideato da scena verticale con la direzione artistica di Saverio Laruina, Dario De Luca e quella organizzativa di Settimio Pisano. Ci siamo regalati 20 primavera artistiche, però io ho perso la primavera, la stagione. E' una festa, devo dire che mentre prima, appunto, i primi anni non c'era prima ancora che cominciasse, già invece vedi che prima ancora che cominci c'è una fibrillazione proprio della gente, interesse proprio che aspettano per fare una scorpacciata, ma veramente una scorpacciata di cose belle, di spettacoli importanti. Dopo la conferenza stampa mattutina spazio ai piccoli spettatori con Primavera Kids, il cartellone dedicato ai bambini. Al Teatro Siberi si è andato in scena Biancaneve, la vera storia, lo spettacolo scritto e diretto da Michelangelo Campanale e prodotto da Crest, che ha vinto il premio Eolo Awards 2018 come miglior spettacolo di teatro ragazzi dell'anno e del premio Padova 2017, amici di Emanuele Luzzati. Specchio mio che stai sul muro! Sono io la più bella! È sicuro? La celebre fiaba dei fratelli Grimm raccontata ai ragazzi senza edulcoranti e senza bugie. I bambini hanno avuto l'occasione di essere portati per mano dietro le quinte della storia, lì dove prendono forma e vite i personaggi. Specchio mio che stai sul muro! Specchio! Adesso vi! E chi è la più bella? Ad inaugurare invece il cartellone della ventesima edizione di Primavera è stato il poliedrico artista di fama internazionale Jean Fabre con il suo novissimo lavoro The Night Right, giornale notturno, autobiografia intima e provocatoria del regista belga. Qui l'attore Lino Musella ha dato corpo e voce. Lavorare con lui è stato decisamente forte e bellissimo, nel senso sia per l'incontro che era già avvenuto leggendo i suoi materiali in parte e poi il lavoro con lui è stato denso da un punto di vista artistico perché comunque non deve essere semplicissimo vedere qualcuno in scena che non parla la tua lingua, che interpreta te. Lo spettacolo è stato un viaggio a colori forti nella vita e nel pensiero dell'autore dai vent'anni del giovane Anversa sino alla maturità dell'artista, oggi noto in tutto il mondo.